Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. La7 ovunque con te. La7 ovunque con te. Di abbattere i missili prima che arrivino al suolo, che mi pare sia una cosa difficilmente criticabile, perché io non riesco a criticare un aiuto dato a una popolazione per difendersi da un missile che cade su una scuola, su un condominio o su una centrale elettrica. Ma questo lo capisco benissimo. Perché c'è travalido? Perché questa mattina leggo sul fatto quotidiano un attacco, un solito attacco al ministro della difesa, come se il nostro decreto fosse un decreto che aumenta il rischio perché diamo armi più potenti all'Ucraina. In questo decreto, a differenza degli altri cinque, è l'unico decreto che contiene solo armi difensive, poi contiene gruppi elettrogeni, tende, materiale per aiutare a superare l'inverno le popolazioni ucraine e non soltanto le forze armate ucraine. Quindi, da questo punto di vista, questo decreto, anche con criteri tra virgolette totalmente pacifisti, dovrebbe essere un decreto inattaccabile.